e poi bisogna anche dire che comunque per arrivare alla vendita questo orologio comunque deve superare un rigoroso controllo di qualità di maestri orologiai e quindi comunque c'è un rispetto della qualità e vedi ad esempio come ti dicevo prima c'è anche queste nuove tendenze produttive perché in questo caso abbiamo un poliuretano che è un materiale nuovo resistente ma al tempo stesso anche molto moderno ti dà questo tocco di novità intanto è giusto ricordare il codice di questa proposta 609,941 e io sto mostrandovi il colore bianco mentre Lorenzo sta mostrando per voi per un attimo il colore nero 75,12 euro quindi cinturino in poliuretano poi che cosa abbiamo? e poi invece all'interno c'è la pelle quindi comunque una pelle scamosciata e poi vedi in questo caso c'è il fondello a vite che è comunque un sinonimo anche di qualità perché non è a pressione ma a vite quindi c'è un lavoro ulteriore per il fondello che è comunque in acciaio ed è anche molto comodo per la visualizzazione dell'orario perché ad esempio c'è questo contrasto tra il quadrante nero e gli indici in bianco e in questo caso sono degli numeri arabi e poi abbiamo anche la caratteristica di un datario quindi è molto comodo per chi non si ricorda mai come me la data del giorno quindi almeno in questo caso c'è la facilità di questo datario che nel termine tecnico vengono chiamate complicazioni però in questo caso per noi è un valore aggiunto allora io ti voglio fare già i complimenti perché essendo al tuo debutto stai già dando tutta una serie di informazioni senza io dico annoiare le nostre amiche perché è importante che si capisca la grande qualità che c'è dietro a questo brand e soprattutto che si capisca anche le idee un attimino innovative perché poi diciamocelo non si può inventare troppo perché l'orologio è l'orologio è questo strumento che serve per misurare il tempo ma come deve essere? Preciso? e quindi loro sono bravi anche perché questo è al quarzo quindi maggiormente preciso perché abbiamo questa batteria che dura due anni e c'è un margine di errore di 10 secondi all'anno però ecco quindi neanche al giorno, all'anno quindi è estremamente preciso allora il datario a ore 3 stiamo parlando di questa cassa in colore bianco stiamo parlando della possibilità di scegliere tra due colori sono tutte e due molto belli sulla nostra patricia vediamo il colore bianco ma devo dirvi che del nero è dove abbiamo una disponibilità leggermente inferiore quindi, chiedo scusa, del bianco abbiamo una quantità inferiore quindi se vi piace proprio quello che sta indossando patricia non perdete la possibilità bianco, nero, molto classici stiamo parlando di un orologio che viene dalla Germania stiamo parlando di un brand che voi potete provare per 30 giorni e questo è in linea con tutte le proposte su QVC quindi quando lo riceverete tra 3-5 giorni e subito potrete dire mi piace, lo tengo oppure lo restituisco senti, dietro al nome Clara allora, che storia c'è? beh, c'è una storia di questo marchio tedesco che comunque ha la tradizione di dare i nomi alle linee riprendendo dalla tradizione ebraica anche perché vedi Costantin, in questo caso anche Clara quindi vogliono seguire questa tradizione ebraica anche per l'opulenza nei dettagli, la ricchezza quindi questo fascino anche della tradizione che poi viene sposata anche con dei materiali innovativi e devo dire che in questo caso, ad esempio, è un orologio che secondo me può andare bene unisex tranquillamente, per esempio, questo nero quindi anche nel caso di Clara è una collezione che non è tipicamente femminile ma si può tranquillamente nel nero sono d'accordo diamo un aggiornamento intanto perché abbiamo iniziato, te l'ho detto, alla grande perché stiamo presentando un ottimo rapporto qualità-prezzo e le nostre amiche hanno... grazie a tutti